Trasparente. Trasparente e cristallina. Acqua trasparente e cristallina nella tua piscina. L'ozonizzatore Hydroforce Clearwater è un dispositivo per la disinfezione ad ozono dell'acqua, progettato per ridurre significativamente l'uso di prodotti chimici nelle piscine fuori terra. Grazie al minor uso di agenti chimici, il sistema Clearwater è ecosostenibile e conveniente al tempo stesso. Riduce infatti anche i costi annuali di manutenzione dell'acqua della piscina. Il sistema combina una tecnologia brevettata che genera nanobolle con la potenza purificante dell'ozono. L'ozono è un potente ossidante che può essere utilizzato in tutta sicurezza per depurare l'acqua. Le nanobolle sono bolle microscopiche in grado di rilasciare fino al 60% di ozono in più rispetto alle apparecchiature tradizionali, con un conseguente aumento del potere purificante del sistema Hydroforce. Trasparente. Trasparente e cristallina. Acqua trasparente e cristallina nella tua piscina. L'ozonizzazione è un processo sicuro che utilizza l'ozono disponibile in natura per distruggere microorganismi quali batteri e virus. L'ozono è così potente da distruggere i residui soliti presenti nell'acqua, ad esempio trucco, creme solari e oli che contaminano la piscina. Ciò che rende l'ozonizzatore Clearwater un sistema così avanzato è la concentrazione di ozono rilasciata nell'acqua tramite il generatore di microbolle. Le nanobolle rilasciano una maggiore quantità di ozono in quanto hanno una superficie più estesa e rimangono sommerse più a lungo rispetto alle bolle normali. I vantaggi dell'ozono in breve Primo, è un disinfettante naturale che distrugge in modo efficace batteri, virus e agenti contaminanti. Secondo, l'ozono si scompone in O2 naturale senza lasciare residui chimici. Terzo, riduce in modo significativo la necessità di prodotti chimici per piscine. Quarto, offre un'alternativa ecologica ai prodotti chimici più inquinanti. Quinto, consente un notevole risparmio sui costi grazie alla riduzione dei costi annui per il trattamento dell'acqua. Sesto, a differenza del cloro e dell'acqua salata, l'ozono non irrita gli occhi, non secca la pelle e non scolora il costume. Il sistema Hydroforce Clearwater è anche semplice da installare. Dovendo acquistare meno prodotti chimici per la manutenzione della piscina, il costo dell'ozonizzatore si ammortizza rapidamente. Cosa stai aspettando? Acquista oggi stesso l'ozonizzatore Hydroforce Clearwater e potrai avere acqua fresca e cristallina nella tua piscina, con tutti i vantaggi che ne derivano.